Siamo pronti anche con la seconda batteria della categoria G5, ci avviciniamo alla finale di questa splendida manifestazione, ricordiamo primo trofeo Family Dental a Capriano del Colle, organizzazione Unione Ciclistica Capriano per una grandissima giornata di festa, di sport e soprattutto di ciclismo giovanile nel paese della Bass Bresciana. E giro dopo giro ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa decima gara di giornata, al comando sono rimasti solo 5 atleti, saranno loro a giocarsi la vittoria finale. Transitano sempre il gruppetto composto dalle 5 unità viste in precedenza al suono della campana, quindi saranno loro a contendersi la vittoria in questa seconda batteria categoria G5. Volata lunghissima che decreta vincitore Andrea Godizzi davanti a Cristian Negroni e Niccolò D'Alessandro. Ecco la classifica, quinto Federico Facchini della Autelli, quarto Igor Spagnoletti della Springedi, terzo Niccolò D'Alessandro della Busto Garolfo, secondo posto per Cristian Negroni della San Marco Vertova e vincitore Andrea Godizzi della Mincio Chiesa. Grazie a tutti.